Almeno a tetto di mazzo Ma questa è la fermata No, ma è da qua che sono arrivato prima Oh no Ma... Il problema è che abbiamo... Cioè io ho trovato anche la Fire Exit quindi... Oddio! Ringrazia che ero qua a guardare Sì! Ho sentito arrivare ma non capivo da dove arrivava Che fai? Ah, non lo so Oddio! Portiamo la roba a caldo, andiamoci Eh, andiamolo eh Fai qua Ciao! 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 è stato che sta essendo come non mi chiude ricordatevi la regola oh guarda chi c'è chi c'è il coil ma che bravo no c'è il bravo c'è anche il bravo ha visto base no Ale non prenderla per il culo base ha detto che c'è il bravo vado a portare roba intanto ma vado Ale non prende per il culo Ari ha sentito giusto perché base ha detto braken sì c'è il braken io non l'ho sentito allora c'è un culo non guardarlo te lo spezza spezza il culo c'è manco fa girato l'angolo guarda chi c'è no vabbè guarda un poco suona suona per noi oh cazzo Teo ehi vieni qui che c'è visto che è la bimba vieni qui visto che è la bimba vai a casa e mi teleporti porco dio non muovermi ma io sono nato non preoccuparti no passo io come sono morto da strozzo ah cosa è appena cosa è successo? eh mi sa che c'è il soldatino è importante che uno è stato stai lì ahhh andino in una dove è finito? questo è stato detto Già, non saperlo, ma... Quindi? Cosa ti ha ammazzato? Quindi fottetemi! Perché abbiamo perso... No! No! Muoio! No! Abbiamo già venduto la sciocca! Ai ai! Abbiamo già venduto la sciocca! Sì! L'abbiamo già venduta! Non c'è di merdulli di qualcosa? Nope! Tromboni! Allora, te non hai idea di che cazzo hai fatto, sappilo! Ok, ok! Oh! Ah, bene! Cacchio! No! No! Aiuto! Teo, se mi stai ascoltando, si è letteralmente teletrasportato! Guarda cosa hai fatto! Ti sembra il modo? Ti sembra il modo? Ti sembra il modo? Non si fa! Ammazzo! Ok! No! 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 Ch oro il braquen! ci sta trattando molto bene che ci sta trattando bene a parte l'ultima giocata porco dio ti ammazzo ti disintegro mi ha connessionato tragedie perché mi è apparso mi è apparso tragedie giuro su dio c'è una tragedie c'è una tragedie no no sei pazzo non c'è nessuna tragedie togliti quell'affare per dio sei un stronzo non me l'aspettavo spero tu l'abbia clipato sono nel muro crocoboy said raga sono nel muro guardate stream non so se si può muovere i broski adesso lo salutiamo a te adesso che c'è anche un babbino va bene è stato preso è meravigliota va bene e mica l'hai visto l'hai visto ok bellissimo bastardo fammi vedere che sai fare Peter ora puoi scappare e nessuno saprà che sei un perdente ma che dico no ho imparato a mettere gli adesivi posso imparare a guidare anche quello ok ok quello è qualcuno in teoria sperai tu sperai con il mio video stai frotting no 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 ok si questo è effettivamente frotting è finita è finita è finita è finita raga raga si aiutatemi ciao non so come andarmene sto sentendo a lei che urla non so come andarmene allora se riesci a uscire da questa porta che hai alla tua sinistra vai subito a destra indietro c'è una libreria ti ci devi incastrare dentro ti tengo sono qui che parlo la tua a destra qui 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 molto bene adesso adesso ah ho capito so che stanzare ci mettono 11 secondi sono vivo riesci a guardarlo non so se lo sta guardando lo riesci a guardare lo riesci a guardare lo sta guardando spiegati come si esce di qua cazzo c'è un blob merda per me che c'è anche un blob cerco di attirarlo via ok sta seguendo me no sto seguendo meno che ho chiamato sei in una bella situazione comunque madonna io devo smetterla di ragionare come se questo fosse un gioco vero nel senso la paretta ti ucciso le gine stavate che ucciso le città cazzo non ho posto dietro tipo cinque oggetti vari non ho sbagliato ero dietro l'angolo dietro il tavolino schiacciato che è quello uguale no non ci posso credere che fa è ucciso io ucciso la lizard perchè non la vedevo ma che cazzo vabbè scusi che li prendo sono morti non lo so penso che è una prima sono morti? eh avevo chiesto se volevano essere presi ma non so a me ne sono chiesto cazzo sono circondati da rosso è che il punto di domanda non viene pure allora devo tornare indietro aspetta che coraggio non mi avete sentito lì non sei al sicuro lì non siete al sicuro lì non siete al sicuro ciao lo facciamo calmare lo facciamo calmare poi diciamo no io esco c'ho paura non è ancora calmo allora la scienza vuole che qua sopra dovremmo raggiungerci Dani sta ancora a suonare sì 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 no ma che dici stai facendo un gioco pericolo naturalmente lo vince lo sai no ma che dici mo qualcuno rientra stiamo avvenendo oh oh no ma che dici no ma che dici Allora